Da Mari, il più grande magastore dell'elettronica Parma, puoi trovare un vasto assortimento di decoder digitale terrestre. In occasione del passaggio al digitale terrestre di TV Parma, Mari offre una promozione esclusiva per voi. Con i decoder, in offerta potrai avere sulle 9,90€ il telecomando unico semplificato che ti permette di gestire sia la televisione che il decoder. Ci trovi a Parma in viaggioliti 9, dal lunedì al venerdì con orare continuato dalle 8 alle 18.30. Per informazioni chiama il numero verde 800 911 863.